Buon pomeriggio e benvenuti sia ai presenti in sala che a chi si collega online. Mi chiamo Chiara Sbordoni e sono docente presso il Rome Global Gateway che dal 2014 è il centro studi romano della University of Notre Dame. Ci colleghiamo oggi dalla Walsh Room che è la nostra sala conferenze con Luca Lombardo, ricercatore in filologia della letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Bergamo, ho il piacere di organizzare la seconda edizione di Le Tre Corone, testi e contesti dell'Italia medievale, nuovi libri di filologia e letteratura italiana. Il primo incontro di quest'anno era dedicato al Dante Petra Kembo Caccio, Literature Doctrine Reality di Zieg Baranski, il secondo al Petrarca Cortigiano di Lorenzo Geri. In questo terzo incontro discuteremo il recente libro a cura di Stefano Carrai, Dante e la tradizione classica, pubblicato da Longo Editore nel 2021 e che raccoglie gli atti del convegno in ricordo di Saverio Bellomo svoltosi a Pisa alla Scuola Normale Superiore il 10 e 11 aprile del 2019. È con vivo piacere che saluta allora il professor Carrai, professore ordinario di letteratura italiana a Pisa presso la Scuola Normale Superiore e che purtroppo non è potuto venire a Roma oggi ma si collega via Zoom, e i relatori di oggi, Zieg Baranski, Emeritus, Canala Professor of Romance Languages and Literatures presso la nostra Università di Notre Dame, e Serena Professor of Italian Emeritus presso l'Università di Cambridge, Andrea Mazzucchi, professore di filologia della letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II che ci raggiungerà, Elisabetta Tonello, professore associato di letteratura italiana presso l'Università degli Studi e Campus, e di nuovo Luca Lombardo di cui già abbiamo parlato. Ringrazio tutti voi per aver accettato l'invito a discutere il volume di oggi. Vorrei ricordare che la serie Le Tre Corone è sponsorizzata dal Notre Dame Global Gateway nella persona della direttrice Silvia Dall'Olio, dal Notre Dame Center for Italian Studies e Diverse Family Program in Dante Studies, di cui ringrazio il direttore Ted Cacci, che saluto anche per il consueto sostegno, e dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Fosca di Venezia, ed è patrocinata dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Il formato di questo incontro è quello solito, alle riflessioni dei relatori che avranno ciascuno circa 15 minuti seguirà la risposta del curatore e poi apriremo una discussione ai partecipanti. Nel lasciare la parola a Luca Lombardo, che modererà la discussione, pregherei chi ci segue a distanza, tranne i professori Carrai e Baranski, di spengere video e microfoni, per favore, di riaccenderli solo dopo le presentazioni per la discussione. Grego Luca. Dicevo che per prima cosa vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti gli amici che sono presenti oggi, che hanno accolto l'invito di Stefano, di Chiara e mio, a intervenire alla presentazione del volume Dante e la tradizione classica, e perciò ringrazio Zig, Andrea ed Elisabetta per essere qui con noi oggi, nonostante molti impegni, molti loro impegni in generale, e anche per aver fatto in modo di esserci proprio in occasione di una giornata speciale come il Dante Dì. Un ringraziamento particolare, vorrei rivolgere, mi sia consentito, a Stefano Carrai, che ha scelto la sede delle tre corone per presentare questo suo libro, così importante sul piano scientifico e così sentito sul piano affettivo. Il libro infatti, come è stato ricordato da Chiara, è dedicato al ricordo di Saverio Bellomo, come già del resto il convegno di cui si raccolgono qui gli atti. Forse non è superfluo sottolineare quanto tutti i presenti, posso dirlo, fossero legati da profondo affetto a Saverio, a partire proprio da Stefano, che gli è stato un amico fraterno per oltre trent'anni, al quale credo che tutti noi dovremmo essere grati per avere raccolto con generosità il testimone di Saverio nel portare a compimento il commento al purgatorio e nell'accingersi ora all'impresa di commentare il paradiso, che è un'impresa gravosa per le sue implicazioni emotive e quindi tanto più apprezzabile, ma che nessun altro all'infuori di Stefano avrebbe potuto affrontare, e non solo per il calibro scientifico dello studioso, che di per sé diciamo garantisce un esito altissimo, ma anche per quella profonda condivisione di interessi e impostazioni della ricerca, come dice appunto Stefano nell'introduzione del volume che faceva, e vorrei dire fa ancora dell'amicizia tra lui e Saverio, un sodalizio anche scientifico e direi persino ideologico di non comune armonia. Ecco, anche per tutte queste ragioni sono particolarmente felice e onorato ed emozionato di moderare oggi la discussione intorno a questo libro, nel quale non spetta ora a me parlare. Abbiamo a tale scopo tre di scasse antedecezione, due in atto e uno in potenza, e se non quindi per manifestare tutto il mio apprezzamento per questo volume e per il tema che esso tratta, che è un tema perfetto, perché è caro proprio nella stessa misura a Saverio, al quale il volume è dedicato, e a Stefano che ha curato questo volume. Ecco, è un esempio plastico di interesse per Dante e la tradizione classica di quel sodalizio di cui dicevo. Non vorrei però sottrarre troppo tempo la discussione con questa introduzione che può limitarsi alle parole che ho fin qui detto, credo. Perciò vorrei chiedere a Elisabetta a questo punto di prendere la parola. Dopo di lei interverrà Zig e poi aspetteremo Andrea. Alla fine degli interventi dei tre discussant è previsto poi un dialogo con Stefano Carrai, curatore del volume di cui si discute oggi. Grazie a tutti. Grazie Luca, grazie a tutti voi. Il libro di cui parliamo oggi, Dante e la cultura classica, ha un doppio valore, un doppio significato. Cercherò quindi per quanto... Stefano, senti? Sento molto debolmente. Non so gli altri, ma... Qui meglio? Sì, decisamente. Ok. Dicevo, il libro di cui parliamo oggi, Dante e la cultura classica, ha un doppio valore, un doppio significato. Cercherò quindi per quanto possibile sia di rendere colto del risvolto affettivo di questo omaggio, che ospita contributi di sodali allievi di Saverio ed è stato curato dal fraterno amico Stefano Carrai, sia di mettere in luce i meriti scientifici del volume che sono vari e molteplici. Il libro, ispirato da un convegno in onore di Saverio Bellomo, svolto sia a Pisa nell'aprile del 19, si apre con un saggio di Luca Carlo Rossi che traccia un bilancio della presenza e del trattamento riservato ai classici nel commento all'inferno di Saverio. Con le parole dell'autore si tratterebbe di un intervento meramente descrittivo che, nulla a che vedere con una recensione, procede per campioni prelevati appunto dai passi nei quali Bellomo illustra l'incidenza dei classici nell'inferno. In realtà è molto di più. È un contributo che restituisce non solo un quadro preciso e ben documentato dell'operazione condotta da Bellomo sulle fonti classiche, ma offre anche una ricostruzione dei passaggi e del vaglio critico sottese a un'operazione complessa, quale quella operata da Saverio per il commento della commedia. Se ne ricava altresì una valutazione equanime ragionata del grado di innovatività delle scelte operate dal commentatore, per citarne solo alcune, generali e puntuali, il ridimensionamento dell'interpretazione allegorica di Virgile e Beatrice, l'attenzione alla componente metaletteraria e metanarrativa attraverso l'individuazione di passaggi virtuosistici della scrittura dantesca in competizione con i classici, il distacco dalle fonti mitiche e classiche nell'episodio della morte di Ulisse, la prevalenza dell'invenzione fantastica, la segnalazione di loci paralleli con i testi classici di scarsa circolazione e così via. Insomma, emerge non solo un quadro dell'opera e dell'operazione esegetica condotta, ma anche la fibra del ricercatore di vaglia che non esercita il dogmatismo, che dimostra anzi una profonda onestà intellettuale, tanto da sollevare quesiti insoluti, per esempio perché Dante evoca Ritusa come modello senza prelevarne tessere dal canto venticinquesimo, perché Dante sceglie Gerione, noto piuttosto per la sua crudeltà come rappresentante della frode. Ecco, insomma, che l'ingresso nell'universo classico in Dante si apre all'insegna della figura di Saverio, che a questo aspetto ha dedicato estrema cura e attenzione. Anche il saggio di Tiziano Zanato esordisce con un esergo che rende omaggio a una delle specificità della cultura di Bellomo, l'attenzione ai commentatori e il loro impiego e sfruttamento per l'esegesi e per altre sottili questioni critiche. E da questo cortocircuito virtuoso Zanato fa scaturire un'analisi preziosa di grande interesse sulle fonti classiche occulte di Dante e, nello specifico, su Lucrezio e Plinio. I riscontri lessicali, che farebbero presupporre l'influsso di questi autori sul dettato dantesco, sono accertati grazie ai database di testi antichi, medio latini, eccetera, e sono verificati nel secolare commento alla commedia, riuscendo nella difficile impresa di scardinare le assunzioni di illustri critici che in passato hanno negato la possibilità che questi autori abbiano costituito un modello più o meno diretto per Dante. Così questo saggio giunge a perfezionare alcune intuizioni di Saverio pubblicate nel suo commento, come nel caso del lato dello sputo di Francesco Cavalcanti, debitore, ora possiamo affermarlo con certezza, della naturalisistoria, ma permette anche di ricordarne l'impegno in questo campo attraverso la citazione di una tesi dottorale su Dante Cosmographus, finendo insomma per instaurare un dialogo a distanza con Bellomo. Passando dalla letteratura al versante della filosofia antica e medievale troviamo l'interessantissimo contributo di Sonia Gentili che presente discute la figura dell'ulisse omerico filtrato attraverso la fonte risottelica dell'etica. La studiosa aveva già trattato in passato questo tema, ora non si limita a notare le corrispondenze tra i vari aspetti concettuali e narrativi del personaggio dell'episodio di Inferno 26, offre invece nuovi spunti di riflessione attraverso la ricognizione della fortuna politica del discorso di Diomede sull'amicizia e sulla presenza di Omero in altre fonti parallele, come il commento all'etica Nicomachea di Alberto Magno, o fonti di fonti all'Enea di Virgilio, evidentissime nel passaggio in cui ha descritto lo stretto di Gibraltar. Dalla mandestra Milasciai Sibilla, dall'altra Gemma aveva lasciata setta, riprenderebbe Scille Caridine l'Eneide Dextrum Scilla Latus Levum Caribdis, cosa che non è stata segnalata ancora in nessun commento. Ma soprattutto questo significativo tassello della Gentili è, grazie, come dichiara delicatamente la studiosa, debitore di una suggestione di Saverio che aveva chiusato l'aggettivo folle, con il quale Dante caratterizza la navigazione di Ulisse come mancanza di misura, nella quale aristotelicamente consiste la virtù. E poi è ancora da un suo suggerimento a distanza, rappresentato dal saggio Forse è tu quel Virgilio, ma quale Virgilio, che muove anche il documentatissimo saggio di Giuseppe Ledda. La finezza del contributo non è solo interpretativa, ma risiede nella risoluzione dello studioso di concentrare le sue analisi sulla terza cantica, evitando sovrapposizioni e anzi offrendo utili spunti, visto che l'inferno di Bellomo, ma anche il suo purgatorio, grazie alla preziosa curatela di Stefano Carrai, hanno già visto la luce. La discussione dei passi paradisiaci, in cui è evidente la presenza di Virgilio, è preceduta da un fitto dialogo a distanza con lo scritto di Saverio. Nel prosieguo del saggio si leggono ipotesi altrettanto suggestive, in particolare quella secondo la quale l'episodio dei Campi Elisi, ovviamente cristianizzati, costituirebbe uno dei modelli per la rappresentazione del paradiso. Ledda fa notare come Virgilio venga impiegato come modello di poesia politica e profetismo imperiale, per esempio a Paradiso XXVI, dove è indirettamente ribadita l'esclusione della salvezza di Virgilio, e a Paradiso XV, nell'incontro fra Dante e Cacciaguida, e di conseguenza, cito, criticato come autore rappresentante della ragione umana e della filosofia razionale. Corrado Bologna torna sulla questione della presenza dell'arts poetica di Orazio nella commedia, concentrandosi sul corpo a corpo che in Paradiso I Dante ingaggia con i classici Virgilio, Orazio e Ovidio per proclamarsi poeta sacro. A essere messo in evidenza il complesso gioco di prospettiva in cui, dice Bologna, la ficzione dei poeti pagani si incrocia con il nuovo orizzonte teologico e poetologico dantesco. Sviluppando alcune suggestioni sulla capacità di Dante di alludere attraverso Ovidio all'ispirazione poetica, che ispira dall'interno e la Deificatio, l'autore rileva un calco quasi letterale di Ovidio non segnalato fino ad ora nei commenti. I versi del Paradiso, di cose che ridire ne sane pochi di la sua discende, perché apprezzando se al suo desire il nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può dire, sono infatti modellati su actenus acte etibi, possum memorandere ferre, actenus ec memini, necmens mea, eccetera, sensit. E poi ancora, nell'autolegittimazione dantesca del poeta ispirato che supera le barriere dell'arte, evidenzia un richiamo dialettico all'arts poetica di Orazio. Già, so ne sarebbe infatti allegoria del supremo sforzo compiuto dalla mente e dall'arte, in grado di dare forma alla materia più alta che l'intelletto umano abbia mai assunto, e Dante mostrerebbe così di cogliere l'invito di Orazio a valutare preventivamente la propria forza artistica. In conclusione, come dice Bologna, sarebbe bello sapere in che modo Saverio avrebbe sciolto la difficile interpretazione del richiamo a Jason. Non poteva mancare poi, in un libro che tende a toccare tutti gli aspetti cospicui della cultura classica in Dante, un contributo sull'iconografia, contributo curato da Lucia Battagliarici. Come recita il titolo, la studiosa riporta Poeti e Spiriti Magni in scena. L'obiettivo del saggio è ricostruire il sistema di convenzioni grafiche adottate dai singoli artisti e tentare di decodificare il significato, al fine di capire se essi abbiano compreso la straordinaria sfida culturale sottesa tanto alla creazione di una sorta di lisio per i pagani virtuosi all'interno di un inferno cristiano, quanto all'invenzione che associa il poeta moderno ai grandi dell'antichità classica, facendo di lui il sesso tra quanto senno. Nonostante il proposito pienamente assolto, le analisi delle miniature sono anche costellate da considerazioni sulle problematiche ideologiche e dottrinarie dei miniature alle prese con la rappresentazione del limbo dantesco, nonché sulle diverse rese grafiche adottate per mostrare la corporeità di Dante e in rapporto all'incorporità di Virgilio, in rapporto alle anime dei poeti antichi, gli spiriti magni e quindi vesti diverse, consistenze diverse, vesti uguali ma color diversi, vesti e senza vesti, insomma una galleria di sperimentazioni molto ricca, soprattutto se si pensa che complessivamente la tradizione figurativa del quarto canto di Inferno e piuttosto scarla. Il saggio di Claudia Villa si concentra poi sul comica verba, raggruppando alcune schede sulla discussione del comico, con l'obiettivo di valutare la profondità e l'estensione della riflessione del poeta intorno al genere letterario eletto per il poema. Qui si passano infatti in rassegna, con grande precisione filologica, formule definitorie richiavate da plurime fonti, Evanzio Donato, l'accesso alle commedie di Terenzio, Isidoro, Serbio, tornando però sempre a Dante e alle sue opere, per ricavarne significative consonanze e aggiungere risvolti illuminanti sul progetto della scrittura e della struttura della commedia, sulla presenza dei realia, sul linguaggio impiegato. Notevole poi il saggio di Giulia Depoli, che si concentra su due soli passi danteschi, nei quali ravvisa l'influenza del poeta Elegiaco Massimiano. L'argomentazione serrata, la dovizia di particolare e la precisione con la quale la studiosa affronta il problema delle fonti, risultano assolutamente convincenti. In particolare, per i celebermi versi, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, andrà presa in seria considerazione l'ipotesi che non solo Boezio, ma anche Massimiano, con Elegia I 291, Dura Satis Miseris Memoratio Prisca Bonorum, debba aver rappresentato un modello per Dante. È noto che il cortocircuito di fonti, anche distanti, in Dante è sfruttato per raggiungere vette liriche. Il volume si chiude con il saggio di Luca Lombardo, che dopo aver chiarito come la lettura della Consolazio Filosofia e la stesura della vita nuova vadano fatte cronologicamente coincidere, si addentra alla questione della circolazione e del contesto culturale in cui Dante è venuto in contatto con l'opera di Boezio. Con un movimento che va dalle parole di Dante, secondo il quale il libro era non conosciuto dai molti, ai dati storici e filologici consolidati e più recenti, Luca riesce a tratteggiare un quadro della presenza di Boezio nella Firenze di Dante, analizzando accuratamente il più antico testimone del volgarizzamento Boeziano-Fiorentino, opera di Maestro Giandino. Sorprendenti le tangenze ben documentate tra quest'opera e la vita nuova, pur essendo elegantemente suggerite con grande cautela. Si tratta insomma di una ricerca ampia e articolata, che non trascura davvero nessun dettaglio e che ricorda nei metodi e nella profondità di analisi proprio le indagini del suo compianto maestro. In un libro come questo, così vicino a Saverio, per convergenza di interessi scientifici e per i tanti modi in cui il suo carattere e la sua persona sono entrati in relazione con colleghi, amici e allievi, l'introduzione, che ho voluto lasciare per ultima, rappresenta un'importante riconferma di un omaggio da parte di Stefano Carrai all'amicizia e agli studi danteschi svolti nel segno e nel sonco dell'insegnamento di Saverio Bellomo. In conclusione, questo libro ha il pregio di tenere insieme tanti aspetti, i progressi degli studi, restituiti dalle tante novità che ho cercato di evidenziare in questa mia comunicazione, l'interdisciplinarietà che per merito dell'organizzatore del convegno, del curatore del volume, conferisce o forse sarebbe meglio dire restituisce a questo tema la sua naturale e incredibile prismaticità di approcci, argomenti e conclusioni e infine la cara memoria di Saverio, che è stato un punto di riferimento indiscusso per gli studi danteschi, come è dimostrato dai riferimenti copiose alla sua produzione e alla sua attività di maestro, ma come provano soprattutto la stima, l'amicizia e l'affetto degli studiosi intervenuti, i quali hanno voluto testimoniare questi sentimenti nel modo che Saverio avrebbe maggiormente apprezzato, vale a dire attraverso la parola di saggi, di grande spessore critico ed esegetico. Ero rimasto assorto nell'ascolto, ma adesso mi tocca passare la parola a Zieg Baranski, che dovrebbe essere collegato da Reading, se non sbaglio, anche se noi abbiamo colmato questa distanza fino a ieri sera, possiamo confessarlo Zieg, condividendo un buon piatto di Sardensa ora a Venezia. Quindi, insomma, nel segno della nostra cena, ti passo la parola. Grazie, mi sentite? Sì, benissimo. Si sente benissimo. Vorrei ringraziare sia Stefano come curatore del volume e anche ai amici organizzatori dell'evento di oggi, della possibilità di ripagare un debito, perché, se non erro, in un primo momento anche io avrei dovuto partecipare all'incontro alla scuola normale, ma essendo ancora a quei tempi a Chicago, venire alla fine del semestre era per me una cosa quasi impossibile. Però, cioè, sarebbe stato, diciamo, una buona cosa se ci fossi stato lì, perché forse rappresento l'unico interlocutore di Saverio, di formazione e, diciamo, non posso neanche dire di lingua inglese, siccome io l'inglese l'ho imparato a scuola dopo il polacco l'italiano, cioè di formazione inglese con cui Saverio per molti anni mantenne contatti, ci scambiavamo PDF all'inizio estratti, eccetera. E fu, diciamo, non posso dire che eravamo amici, perché, come vi dirò dopo, ci siamo soltanto incontrati una volta di persona, però c'era un reciproco rispetto e un dialogo tra di noi a livello, diciamo, di posta elettronica, anche se spesso le cose le vedevamo, diciamo, da prospettive diverse, che poi è la cosa, in qualche modo pensiamo quanta noia ci sarebbe se tutti la pensassimo allo stesso modo. Leggendo questo libro, e io mi concentrerò principalmente sugli ultimi tre contributi, perché in un altro primo momento, parlando con Luca, si pensava di assegnare a noi tre che presentiamo il libro, cioè di concentrarci su un numero limitato dei saggi. E io ho fatto così, perché poi, a dire la verità, non ho sentito più niente, e mi sono basato su quello. E la cosa che, in qualche modo, che ho trovato interessante, leggendo, diciamo, con una certa rapidità, devo ammettere la prima parla, cioè la prima due terzi del volume, e poi concentrandomi con un minimo di cura all'ultimo terzo, fu che ha stimolato in me delle riflessioni sui sviluppi che sono accaduti nello studio di Dante e la tradizione classica, per usare il titolo del nostro volume. In particolare, il rapporto con un volume che è stato un po' una pietra migliare, cioè degli studi in questo ambito della dantistica. E sto pensando di Dante e la bella scuola di poesia, con il sottotitolo Autorità e sfida poetica, che uscì anch'esso da lungo nel lontano 1997, quasi trent'anni fa, e curato dal compianto amico a Milcarei Annucci. L'importanza, forse, di quel volume, diciamo, nella storia degli studi, dei rapporti di Dante con i classici, che fu un volume in cui diversi autori sottolinearono il fatto che non potevamo più studiare i rapporti di Dante con i classici, cioè andando a prenderci una bella edizione moderna di un Virgilio, di uno video, chi sia, però che la trasmissione dei classici nel Medioevo fu altamente mediata e complessa e anche coinvolta con la tradizione dei commenti. Fu un volume, cioè fu una prospettiva abbastanza nuova nel dantismo, quella che fu proposta dal libro curato da Milcare. Riflette, continuando a mettere un po' in la fronte, pensando a ciò che è accaduto nei trent'anni circa che dividono Dante la bella scuola della poesia e Dante la tradizione classica, quello che colpisce è che gli autori della bella scuola a cui si aggiunse anche Stazio erano fondamentalmente i classici a cui si pensava in rapporto a Dante. Era un gruppetto un po' di nuovo come spesso accade con Dante. Dante in qualche modo aveva costretto il dantismo a concentrarsi su un particolare gruppo di poeti perché erano quelli con cui si era incontrato nel limbo. Io in base, ero molto giovane ancora, cioè molto non ero, ero più giovane di ciò che sono oggi, ovviamente. A me mi hanno invitato di parlare dei comici in base a un articolo che era uscito qualche anno prima in Italian Studies sul titolo del poema. Ed è un po' merinzuffolato lì, rappresentava un po' un'apertura verso un campo cioè che non era stato particolarmente studiato. Ora questo canone di base, come anche emerge con grande chiarezza dal volume curato da Stefano, si è significativamente ampliato. Cioè, per esempio, con il capitolo su Massimiano, cioè sempre di più, particolarmente negli ultimi anni, l'attenzione si è anche diretta verso gli autores minores, che porta a, spero che può portare a ricerche su ciò, cosa fu un classico nel Medioevo, cosa su cui ancora non abbiamo veramente, cioè, studi dettagliati e poi vedere che era posto questa riflessione sulla nozione del classico possa avere del modo in cui Dante tratta non solo autori classici, ma anche autori, cioè, più vicini a lui stesso. Perché, se ci ricordiamo, alcuni degli autores minores erano figure, cioè, super giù, diciamo, dell'epoca di Dante. Inoltre, l'idea di avere un impossibile Lucrezio che diventa possibile proprio grazie ai modi, cioè, frammentari, immediati in cui la conoscenza di brani, di testi classici e di autori classici, di nuovo del lavoro di Tiziano, si riconnette a ciò che fu aperto da Dante la bella scuola. In più, il non conosciuto da molti libri di Boezio, nel 93, era pochissimo studiato Boezio. Poi, questo libro, almeno, cioè, c'è questo filo rosso all'Elegia. Non mi sorprende, dato, diciamo, chi è il curatore, però un capitolo sull'Elegia, nel 93, accanto a quella sul comico, direi che avrebbe avuto una sua utilità. E questo lo dico un po' con l'understatement britannico. Una cosa, però, che non è veramente cambiata negli ultimi trent'anni è il fatto che continuiamo a non studiare, a marginalizzare in qualche modo, a mettere in ombra gli scrittori classici che scrivevano in prosa. Dunque, di nuovo, ringrazio a Tiziano proprio del fatto che abbiamo trovato, diciamo, una discussione di Plinio. Però c'è qualcosa, se ci pensiamo. Da un lato, negli anni recenti, sappiamo molto, e su questo tornerò, su come si leggeva Boezio nell'ambiente fiorentino, eccetera, ma anche più ampiamente. Però continuiamo a sapere molto poco su come si leggeva il De Amichitia di Cicerone. E in generale, di studi su Dante Cicerone non è che abbondino. Forse il contributo, in qualche modo, più significativo nel volume del 93 era quello di Claudia Villa su Orazio, come anche il fatto che è anche riconosciuto da Corrado Bologna. Perché se andate a vedere un po' la bibliografia precedente, prima del contributo della villa, cioè su Dante e Orazio c'era pochissimo. Corrado Bologna, secondo me, in maniera esemplare, e con tutti i documenti che gli danno appoggio, cioè sottolinea il ruolo e l'importanza cruciale di Orazio nel Medioevo. E il fatto che ancora è necessaria maggior attenzione sull'influsso di questa figura sull'opera dantesca. Forse la situazione non è così tragica, tra virgolette, come sembra accennare Corrado, perché un po' di progressi si sono stati fatti negli ultimi trent'anni. Però bisogna, cioè, ancora non siamo al punto di come sottolinea Corrado, del fatto di capire le implicazioni, del fatto che in fin di conti non si può pensare alla poesia nel Medioevo se non si prende in considerazione l'ars poetica e l'influsso incredibile che quest'opera ebbe, cioè, per, direi, qualsiasi poeta, se non per qualsiasi scrittore dell'età di mezzo. Per noi, come tantisti, cosa a cui accenna anche Corrado, è che ci siamo lasciati un po' troppo, in qualche modo, consolare da quel epiteto satiro, piuttosto che consensarci sulla molto più importante descrizione che troviamo nel vulgar eloquenza, cioè Dante che scrive Magister Noster Oratius Precipit, cum in principio poetrie sumite materiam digit. Se ci fossimo consensati più su quel brano lì, piuttosto che su Oratio Satiro, immagino che gli studi su Oratio sarebbero un punto più avanzato. Inoltre, direi che la natura dei rapporti tra Dante e i classici si è complicato. Nel passato, già l'idea che ci fosse una sfida poetica nel sottotitolo del volume Dante e la Bella Scuola, però alcuni l'hanno trovato quasi inaccettabile. Ora troviamo Corrado che scrive del braccio di ferro, di un vero corpo a corpo, che i rapporti tra Dante e la tradizione si sono complicati molto di più negli ultimi trent'anni. Capiamo molto di più non solo ciò che Dante deve ai classici, ma anche le distanze che lui elabora, cioè che lui crea tra ciò che fa lui come poeta e i poeti del passato. E Corrado, cioè da ottimi esempi della complessità di questo, basarsi sulla tradizione ma poi distaccarsi, studiando alcuni dei miti ovidiani che troviamo in Paradiso 1. ma miti ovidiani che ora sono integrati con stimoli orraziani. Anche questo è nuovo, cioè di considerare insieme, di capire come Dante sintetizza, sincretizza, intreccia poeti classici diversi. E qui poi bisognerà aggiungere il modo in cui, cioè integra la tradizione romanza, integra passi scritturali e tanti altri testi assieme ai classici, perché in fin di conti quello che caratterizza Dante è proprio il fatto che spesso, cioè non è il modo più, diciamo più utile, separare i vari autori, i vari intentesti in un certo momento della commedia. Ho già detto che l'attenzione sugli autori minore è qualcosa di nuovo per gli studi danteschi e quindi devo ringraziare Giulia Depoli per la sua rigorosissima ricerca sui florileggi e sulle raccolte scolastiche. Devo dire che ho imparato moltissimo e a me, cioè, ha sempre, cioè una delle cose per cui studio è perché a me piace ad imparare. Inoltre, ho ammirato molto il coraggio di questo lavoro, coraggio ovviamente tra virgolette, perché ha fatto un enorme lavoro per poi suggerire soltanto due echi possibili da Massimiano. E a me, scusami, Elisabetta, convince soltanto uno, cioè la massima di Francesca, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, che assieme al passo dalla quarta prosa del secondo libro della Consolazio Filosofie, che è stato riconosciuto già da molti anni, a cui Luca Lombardo ha aggiunto la glossa di Guglielmo di Conch, mi pare anche che l'Elegia 1.291, Dura, Satis, Miseris, Memoratio, Pris Gabonorum, dovrebbe essere presa in considerazione, anche perché, come dimostra la Deppoli, questa massima circolava indipendentemente. E dunque si ricollega bene con Francesca, che esprime questa sua massima e uno può capire i modi in cui la massima di Massimiano, che Dante avrebbe potuto trovare in diversi testi scolastici e altri tipi di raccolte, avrebbe potuto aver lasciato un'impronta su Dante mentre componeva la massima espressa da Francesca. Giulia Depoli arricchisce anche la nostra conoscenza della formazione intellettuale di Dante a Firenze, perché lei suggerisce, ipotizza, che è proprio durante un primo periodo scolastico dantesco che Dante si sarebbe potuto inciampare in Massimiano. Parlando di formazione dantesca fiorentina, cioè ci sono pochi, pochissimi direi, che ci hanno insegnato tanto quanto Luca Lombardo, da Brunetto Latini a Bono, ai testi di costumanza, ma in particolare alla lettura fiorentina della Consolazio Filosofie tra un pubblico laico. e nel suo contributo Luca studia e ci attira l'attenzione su ciò che chiama i filtri culturali. E in particolare il filtro forse più importante, cioè Giandino da Carmignano nelle vesti di vulgarizzatore della Consolazio, ma anche forse commentatore. E ciò che è veramente nuovo nel contributo di Luca è proprio il fatto che nel modo in cui il testo di Giandino ci è stato trasmesso è un testo che strutturalmente ha degli elementi in comune piuttosto notevoli con la struttura tripartita della vita nuova. Cioè una vita nuova che mette insieme da un lato poesia e dall'altro lato due tipi di prosa. una prosa che chiamiamo la critica di commento e un'altra prosa narrativa. Ed abbiamo esattamente la medesima struttura, la medesima integrazione di questi tre livelli nella versione di Giandino. E su questo direi bisogna rifletterci abbastanza e continuare a studiare e scavare. come anche all'accenno che fa Luca ai canali francesi, cioè del modo in cui è la Francia che dissemina un certo tipo di conoscenze a Firenze, diciamo, verso la fine del Duecento. Anche su questo sarebbe... queste sono cose un po' che sappiamo, però non mi pare che ci siano in effetti studi sistematici anche di sintesi che mettono insieme un'analisi di come funzionava nell'implicazione di questi canali francesi. E mi fa molto piacere chiudere parlando di Luca perché l'unico incontro a cui ho già accennato prima che ho avuto di persona con Saverio fu alla normale, ad un esame di tesi di dottorato. E lì a pranzo mi ricordo che Saverio mi aveva parlato proprio di te, Luca. E sono queste strane coincidenze della vita che ora ci troviamo, io e tu, siamo diventati molto amici, siamo stati anche colleghi, eccetera, e che siamo qui insieme per ricordare Saverio che in qualche modo fu, diciamo, il go-between, il galeotto in qualche modo che ha stabilito, ha creato, ha fondato la nostra ammettizia. E finisco proprio su questa nota personale in ciò che ovviamente è un volume che per molti di noi ha delle implicazioni non solo scientifiche ma anche personali, come è chiaro, dall'introduzione di Stefano. Grazie. Grazie molte a Zig Baranski che ha detto molte cose interessanti e molte cose belle, così come Elisabetta Tonello prima di lui. e quindi rivolgo ad entrambi i ringraziamenti per i loro interventi, per le suggestioni che hanno voluto condividere con noi nell'ambito di questa discussione che sin dall'inizio si è rivelata ricchissima e aggiungerei anche molto emozionante per me e anche per le note personali che impreziosiscono la bellezza delle nostre conversazioni. Quindi ringrazio molto Elisabetta per la sua accurata e attenta e integrale analisi del volume, così come per le stesse ragioni, per la sua arguta lettura del volume e specificamente di alcune parti di esso. ringrazio molto Zig Baranski e anche per tutto il resto. Però non voglio sottrarre tempo alla discussione nell'ambito della quale mi auguro che ci sia modo e l'occasione di ritornare sugli spunti che sono stati evidenziati dai nostri primi due discussant e sarebbe l'occasione credo anche per approfondire alcune delle loro interessanti suggestioni. Ma prima di questo momento di discussione alla quale mi auguro che partecipino quanti più partecipanti possibili non solo tra i pochi presenti in sede ma anche tra i molti presenti da remoto prima di tutto questo con molto piacere a questo punto do la parola a Stefano Carrai che naturalmente l'ospite d'onore di questo nostro incontro ed è stato chiamato in causa a più riprese in quanto curatore di questo volume ma anche già organizzatore del convegno che ha ispirato la pubblicazione di questo volume. Quindi ringraziando molto Stefano per essere qui con noi oggi seppur da remoto proprio perché so benissimo che questo collegamento gli costa fatica non essendo in ottime condizioni fisiche e con l'augurio invece che possa rimettersi presto gli passo la parola. Grazie grazie davvero mi spiace che ancora non sia arrivato Andrea perché diciamo sarebbe stato più importante e interessante sentire la sua voce a questo punto che la mia anche perché io ovviamente ho soprattutto da ringraziare sono molto dispiaciuto appunto di non poter essere a Roma con voi perché proprio intendo questa presentazione come non solo un omaggio alla memoria di una persona che per me come per tanti di quelli che sono insomma collegati è stata una presenza importante nella vita personale come nella vita nostra di studiosi quindi per prima cosa ringrazio ringrazio veramente di cuore Chiara Sbordoni e Luca Lombardo per aver accolto la mia proposta di appunto inserire nel loro programma la presentazione di questo libro poi ringrazio Elisabetta Tonello e Zieg Baranski per quello che hanno detto su cui adesso molto probabilmente tornerò ma insomma ripeto non ho molto da aggiungere ma prima voglio anche ringraziare di nuovo nell'ordine e gli autori implicati e poi insomma dirò anche perché cioè Luca Carlo Rossi che oggi non ha potuto essere presente per altri impegni Claudia Villa Tiziano Zanato Lucia Battagliaricci Sonia Gentili Giuseppe Ledda Corrado Bologna Giulia De Poli e Luca Lombardo e ringrazio anche Claudia Russo che ha curato gli indici allora io sono molto contento che oggi noi possiamo parlare di questo libro anche appunto perché in qualche modo attraverso questi studi raccolti in Dante della tradizione classica attraverso le parole appunto di Elisabetta e di Sig Saverio è tornato a vivere con noi ecco e questa è credo la cosa più bella di questo libro che in qualche misura ha così fatto continuare a vivere Saverio nei nostri discorsi nelle nostre riflessioni nei nostri scritti ho molto apprezzato il raffronto che Sig ha fatto con il libro curato appunto quasi trent'anni fa da Milcare Iannucci soprattutto perché come lui diceva è stato un punto di riferimento importante per tutti gli studi su Dante e la cultura classica poi perché appunto è un è un paragone che fa onore a questo libro perché insomma dalla bella scuola di Iannucci sono partite è cominciata una stagione nuova è diversa su come studiare il rapporto di Dante con i classici e quindi auguro a questo libro insomma altrettanta fortuna e importanza però è anche vero che sono due libri molto diversi molto diversi soprattutto nell'impostazione perché appunto come Sig ci ha ricordato quello nasceva da un piano da un piano insomma abbastanza organico certo non c'erano gli elegiaci però insomma c'era effettivamente il canone che Dante ci ha proposto e questo libro nasce appunto dagli atti di un convegno e il convegno è nato in una maniera tutta diversa cioè senza un piano preordinato ma io ho pensato che a un anno di distanza esatta da quando Saverio era mancato il 10 aprile del 2018 appunto esattamente un anno dopo ho pensato che fosse importante ma forse più che importante che fosse necessario almeno per me ma non solo per me per tanti amici che li avevano voluto bene e che avevano avuto con lui un dialogo sia scientifico sia umano perché in Saverio distinguere diciamo l'umanità dalla dottrina era praticamente impossibile ho pensato appunto che fosse che questa iniziativa andasse fatta e tra l'altro ero insomma arrivato da poco alla scuola normale e quindi mi piaceva proprio che questo coincidesse insomma il primo impegno diciamo scientifico che prendevo in quel contesto coincidesse con la memoria di di Saverio e quindi non c'è stato un piano preordinato come del resto rivela anche l'indice del libro non c'è stato un piano preordinato ho cercato di coinvolgere quanti più amici di Saverio fosse possibile gli studiosi che con lui avevano avuto un rapporto profondo poi non tutti non tutti hanno potuto partecipare lo stesso Siga ha ricordato che appunto non ha non ha non ha potuto in quel momento rispondere al mio invito e così altri ma lo stesso Luca Lombardo non ha non ha potuto venire a Pisa quell'aprile del 2019 se non che ecco nella così così insomma nella casualità un po' del tutto poi c'è stato appunto Luca che comunque non ha potuto partecipare al convegno ma poi ha scritto per partecipare agli atti in ogni caso viceversa Giorgio Inglese che oggi avrebbe voluto essere qui con noi ma con con una coincidenza anche come posso dire lusinghiera la sua edizione critica della commedia si presenta proprio oggi in Palazzo Vecchio a Firenze e quindi e quindi non può non può essere qui con noi però ecco Giorgio che ha partecipato al convegno viceversa poi non si era sentita di scrivere con un understatement non britannico ma comunque understatement perché insomma forse anche eccessivo perché in realtà aveva aveva così portato degli elementi molto interessanti sul rapporto di Dante possibile ma anche probabile con le vite originarie antiche però poi appunto non 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 se l'è sentita di mettere per scritto quelle cose e e quindi insomma c'è c'è la casualità di di una di una impresa di questo tipo però però pur nella casualità beh lo stesso Andrea Mazzucchi che al momento non so se è arrivato ma non non mi sembra di vederlo ma lo stesso Andrea aveva accettato l'invito era nel programma del convegno poi per un problema familiare non poteva venire a Pisa allora io lo sollecitai comunque a scrivere e fino all'ultimo Andrea ha sperato di di poter entrare insomma nel nel volume ma poi sappiamo tutti quali e quanti impegni abbia avuto negli ultimi tempi e quindi il saggio di Andrea poi non è arrivato per cui ecco dicevo c'è questa casualità che distingue questo progetto da quello da quello coordinato a suo tempo dagli annunci però anche nella casualità mi sembra che come hanno messo bene in rilievo prima l'intervento di Elisabetta e poi quello di Zig che insomma gli argomenti toccati siano tutti reattivi cioè voglio dire sono saggi che toccano tutti argomenti importanti in relazione al tema generale argomenti che hanno dato frutto e allora mi piace sottolineare anche il lavoro di questo ultimo arrivo di cui appunto ha già parlato Zig Baranski cioè di Giulia De Poli che è una ragazza molto giovane molto giovane sta facendo in questo momento il perfezionamento cioè il dottorato alla scuola normale tra l'altro come Zig sa si è molto appassionata al al rapporto alla diciamo specificazione alla misurazione del debito che sicuramente Dante ha contratto nei confronti di Alano Dallilla però insomma è come l'araba fenice questa cosa tutti ne parlano però poi arrivare a stringere e a concretizzare è difficile e lei ci sta provando allora una ragazza molto giovane che ha seguito appunto il corso con me su Dante proprio proprio quell'anno del convegno e fece un seminario appunto su Massimiano io gli dissi guardi veramente un autore che non è mai entrato mi pare insomma almeno nella riflessione dei dantisti provi a vedere certamente nel medioevo queste legie erano diffusissime chi lo sa e insomma lei secondo me anche con molto equilibrio appunto ha ricostruito ha approfondito questa questione e sono d'accordo anch'io con Sig che insomma almeno quell'eco lì in inferno quinto sia piuttosto piuttosto probabile naturalmente in sinergia con Boezio certo ecco anche anche Giulia De Poli si è aggiunta poi diciamo un po' occasionalmente Saverio Bellomo non l'ha mai visto né conosciuto però mi è sembrato anche questo insomma un fatto importante includere anche una giovanissima a riprova insomma della vitalità del lavoro di Saverio perché è chiaro che insomma il commento all'inferno di Saverio è stato è stato importante per tutte queste ricerche non solo però per per il lavoro di Luca Rossi che è che è più specificamente centrato sul lavoro di Saverio quindi diciamo c'è questa questo aspetto diciamo un po' occasionale nel libro che che risulta appunto da da tutti questi lavori c'è questo aspetto occasionale ma mi sembra che comunque diciamo l'insieme abbia invece un un che di sistematico paradossalmente voglio dire nel senso che comunque la riflessione tocca appunto tutti tutti i testi e gli autori che sono stati tutti o quasi insomma che sono stati importanti per la poetica dantesca e che dà insomma un un quadro degli studi su Dante e la tradizione classica che è estremamente rinnovato rispetto appunto alla tradizione di studi precedente con la speranza naturalmente che però queste indagini qui raccolte siano soprattutto fuoriere di nuovi spunti e di nuove sollecitazioni per appunto ulteriori approfondimenti e da parte ancora di studiosi più giovani di noi ecco con questo io torno a ringraziare davvero tutti quanti gli organizzatori e chi ha parlato del libro e anche chi ha contribuito ovviamente perché insomma credo che io sono contento di questo libro credo che sia stata una cosa bella per Saverio per la famiglia e per chi per chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene vedo ne vedo insomma altri collegati che 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 non abbiamo menzionato allora voglio ricordare Corrado Calenda che insomma di Saverio è stato un grande amico è stato molto molto vicino non solo appunto sul piano della della condivisione degli studi ma anche così dell'affetto e della della partecipazione personale grazie a tutti grazie molte a Stefano Carrai per il suo intervento per le sue parole le sue osservazioni le sue riflessioni a margine degli interventi che lo hanno preceduto e che mi pare tutti abbiano evidenziato una cifra propria del volume e l'auspicio che da esso scaturisce cioè la continuazione delle ricerche e la continuità delle ricerche condotte nel segno dell'insegnamento dell'esempio di uno studioso come Saverio Bellomo dunque in effetti noi fronteggiamo in questo momento anche l'assenza per causa di forza maggiore di uno dei tre relatori di uno dei tre discussant cioè Andrea Mazzucchi che ci dispiace non possa essere qui ma questa assenza evidentemente ha comportato un'anticipazione dei tempi previsti in ragione della quale mi sento di proporre a chi avesse il desiderio di intervenire sia tra i presenti in sala sia tra i presenti da remoto mi sentirei di proporre loro appunto di prendere la parola facendo leva anche su questo supplemento di tempo di cui disponiamo non so se forse ci sono interventi possiamo accogliere domande da casa sia col sistema della manina ormai noto a tutti sia eventualmente anche con la presa della parola forse qualcuno mi pare di vedere nello schermo vorrebbe intervenire no mi sbaglio e e lo stesso lo stesso invito rivolgo ai presenti in sala tra i quali peraltro vedo vedo dei colleghi che ringrazio molto di essere qui perché anche loro hanno avuto modo con ruoli diversi investi diverse di avere rapporti stretti di collaborazione con Saverio quindi tanto più ci è ci è gradita la loro partecipazione se non ci sono prego vedo vedo Corrado Calenda che forse vuol prendere la parola prego saluti a tutti gli amici collegati sono molto felici si sente male forse bisogna alzare il volume o avvicinarsi al microfono va meglio così un po' meglio aspettate ora cerco di avvicinarsi beh allora io provo posso andare avanti prego si adesso si sente un po' meglio allora ringrazio dicevo che saluto tutti gli amici presenti sono molto felice di di vederli dopo tanto tempo ringrazio molto Stefano che l'avevi ricordato anche i miei rapporti personali molto stretti di lavoro e anche proprio l'amicizia con Salerio io ho lavorato con Salerio per alcuni anni quando Salerio era impegnato nel lavoro per l'edizione nazionale dei commenti d'antesti il sentimento ma comunque lasciando stare un pochino da parte diciamo così le considerazioni personali mi piacerebbe proprio sulla valenza scientifica che io ritengo alta e importante di questo libro fare una domanda abbastanza semplice ma anche di una certa importanza Stefano cioè io giustamente Zygbaransky ha ricordato l'intercedente vecchio ma famoso ormai fondamentale del libro di Annucci credo che tra quel libro e questo libro che idealmente si congiungono ci sono poche cose altrettanto rilevanti sul tema che stiamo trattando ricorderei non so gli studi di Michelangelo Piccone ma soprattutto un riferimento a Stefano il suo libro del 2008 su Dante l'Antico che è necessariamente collegato essendo Stefano stato il promotore diciamo di questa iniziativa certo legata a Saverio ma in ogni caso con un suo importante valore obiettivo se uno mette a confronto il libro del 2008 di Stefano con questa splendida raccolta per Saverio la prima cosa che mi viene da dire è che in realtà le due ottiche in cui i libri si muovono sono abbastanza diverse abbastanza diverse la ragione per cui il secondo cioè il libro per Saverio non può essere che fatalmente così è il fatto che si tratta di un libro di più autori naturalmente come hanno portato anche Stefano con una parte di casualità diciamo così o comunque legata anche alle persone invitate e cose di genere mentre invece il libro sull'antico di Stefano si proponeva diciamo così soprattutto nel come dire nel saggio integrativo che è l'introduzione a quel libro una prospettiva unitaria in una chiave diciamo che non è la chiave tradizionale e che forse posso dire non è neanche la chiave che necessariamente ancora riguarda questo ultimo libro cioè la chiave come dire dell'umanesimo dantesco del presunto umanesimo dantesco per il quale Stefano lanciò anche una formula che forse avrebbe meritato più fortuna di quanto è il famoso classicismo gotico di Dante e che mi sembra che sia un importantissimo itinerario di lavoro su cui lavorare perché quel saggio forse tutti voi lo ricorderete partiva da una specie di questo controregistrazione dei vari aspetti che aveva assunto il problema di Dante all'antico nella tradizione eseggenica precedente ma tentava per l'appunto una specie di ricondazione generale o meglio integrazione generale dentro quel quadro di specifiche ricerche alla luce di secondo me giustamente non troppo nascosta non dico insofferenza ma insoddisfazione ecco fondamentale su tutte le ricerche di Dante e di Cassi che si limitassero diciamo o che comunque facessero leva soprattutto su confronti testuali e cose di questo entro ecco io vorrei sapere è una vera e propria come dire una vera e propria curiosità di grattere culturale scientifico ecco vogliamo dire chiedere amichevolmente a Stefano se in realtà quella linea di 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 fondazione diciamo così del problema del presunto umanessimo o meglio di quella linea di un classicismo dantesco non riducibile a livello di confronti fonti e cose di questo genere è ancora una linea su cui crede che si debba lavorare nel campo di nostra stessa grazie posso rispondere sì grazie sì prego dunque no grazie corrato della domanda che oltre ad essere molto pertinente però mi mi dà modo anche di di aggiungere prima di passare alla vera e propria risposta di aggiungere qualcosa anche sulla scelta del tema di dante la tradizione classica evidentemente corrado ha ricordato il fatto che questo è l'aspetto che io ho privilegiato nella ricerca dantesca e che più mi affascina più mi incuriosisce ancora oggi però ecco la scelta del tema naturalmente nasce da questa mia propensione personale ma nasce anche dal fatto che quelli studi raccolti in Dante e l'Antico erano stati erano stati discussi e insomma erano nati quasi in simbiosi con 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 Saverio in genere era il sabato mattina il momento deputato a delle telefonate chilometriche che facevano spazientire le nostre rispettive consorti e però in cui parlavamo di tantissime cose naturalmente anche di questioni personali ma poi moltissimo degli studi danteschi e quindi diciamo è un tema mio e di Saverio anche per ovvi motivi perché poi anche lui se ne è occupato tanto ma soprattutto insomma è stato diciamo il naturale interlocutore per me ecco però è vero che l'ottica di Dante e l'antico è parecchio diversa rispetto alla compagine di studi raccolti in Dante e la tradizione classica è vero anche perché c'è soprattutto nella introduzione ma non solo soprattutto nella introduzione che Corrado così gentilmente ricordava c'era anche un aspetto in qualche modo provocatorio anche perché poi io diciamo dopo la mia tesi di laurea che era comunque su un poeta della della Firenze del 200 maestro Rinuccino e quindi per cui insomma con la poesia soprattutto giovanile di Dante avevo avevo dovuto fare parecchio i conti però poi dopo per diversi anni mi sono occupato piuttosto di altri autori di altri periodi soprattutto insomma il rinascimento finché proprio Saverio mi ricordo una volta che eravamo ancora entrambi all'università di Trento e che io su invito di Michelangelo Piccone avevo cominciato a preparare una lettura per la lettura zurichese del sesto del paradiso poi ne parlavamo ricordo a pranzo ma perché non ti rimetti a studiare Dante seriamente e allora io insomma quell'invito poi ho sentito di 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 doverlo e volerlo raccogliere e quindi sono tornato a Dante però dopo questo periodo insomma umanistico rinascimentale per cui insomma certamente capire che rapporto aveva avuto Dante con i classici è stata un po' la molla delle mie ricerche dantesche ma dicevo c'era una provocazione una provocazione perché appunto il classicismo gotico è una contraddizione in termini stando diciamo al valore comunemente dato a queste parole ma cercava di rendere questa questa forte propensione verso l'antichità pur naturalmente da parte di uno che non aveva certamente l'ottica degli umanisti cioè della ricreazione dell'antico ecco io mi sono posto un po' questo problema Dante sceglie Virgilio come guida nell'aldilà cristiano che anche questa è una cosa straordinaria una contraddizione in termini anche questa ma non ha l'atteggiamento degli umanisti non solo perché chiaramente non c'è quell'atteggiamento filologico di 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 studio della lezione originaria dei testi classici ma anche perché non c'è l'idea di rifare l'antico c'è l'idea di sfruttare l'antico ma per un messaggio per un discorso poetico tutto nuovo moderno d'altra parte ce lo dice chiaramente nel 25esimo del paradiso la commedia è l'opera non solo di un uomo ma di un uomo che ha dalla sua parte Dio cioè l'ispirazione divina la grazia di Dio e quindi il messaggio degli antichi certamente è esaltato basterebbe pensare a Inferno 4 però al tempo stesso viene giocato in tutta un'altra chiave quindi io cercavo di rendere un po' questo simoro ma è anche vero che poi mi proponevo di vedere come insomma certe tonalità quella elegia appunto in diversi passi dell'Inferno oppure quella epica in Ulisse insomma come certi generi della classicità potessero risuonare nella poesia dantesca ma a prescindere appunto da queste reminiscenze puntuali verbali precise come diciamo appunto un'aura una tonalità più generale e a tratti anche inafferrabile qui in tanta tradizione classica siamo piuttosto di fronte a studi abbastanza tradizionali su appunto echi e reminiscenze che però certamente diciamo certificano letture letture fatte e quindi che sono la base poi insomma dell'interpretazione di come Dante ha letto questi autori quindi la differenza a ragione Corrado c'è c'è e non sta solo nel fatto che questo è un libro a più mani e quello era un libro tutto mio sta anche proprio nell'impostazione che in quel caso voleva voleva essere ripeto un po' provocatoria nei confronti della dantistica perché è chiaro che insomma trovare la tesserina l'eco precisa beh insomma c'è c'è una tradizione veramente veramente lunghissima io ho provato in quel caso a fare qualcosa di un po' diverso ma pur se il metodo negli studi raccolti qui in tanta tradizione classica è un metodo forse più tradizionale mi sembra che le novità però siano tali anche se sono novità spesso più puntuali però sono novità tali che insomma rendono questo libro mi pare davvero un passo in avanti ecco lo dico avendolo soltanto messo insieme non so corrado se se la mia risposta è così insomma soddisfacente no no grazie perfetto grazie grazie a entrambi per la domanda e per la risposta chiedo se ci sono altri interventi altre richieste o curiosità altrimenti vorrei fare io una considerazione a margine di quello che è stato detto finora e possibilmente anche a margine di quest'unitima naturalmente sì sì allora lascio prima la parola ad un ospite della sala e mi riservo di fare a margine del suo intervento la mia considerazione a margine allora mi piacerebbe sentire poche parole riguardano io mi scuso ma non riesco a sentire mi scuso ma adesso si può sentire no secondo me il microfono che è troppo basso venga pure qui dal pulpito viene meglio proprio il microfono che è diverso adesso si può sentire sì benissimo allora mi piacerebbe sentire poche parole riguardo il contatto con la letteratura greca specificamente che Dante ebbe se era un contatto diretto oppure qualcosa si può dire immediato e se fosse immediato forse posso chiedere se lui fosse influsso già da un certo una certa sorta di classicesimo latino della letteratura greca o qualcosa del genere soltanto un'idea una domanda grazie devo rispondere io o chi si si prego stefano se vuoi intanto ma dunque la domanda certamente una grande domanda perché tutti sappiamo che Dante non conosceva il greco quindi non poteva conoscere i testi originali cosa sapeva della poesia greca ma sì certamente sapeva quello che gli autori latini ne riferivano quindi soprattutto Ovidio e quel poco che filtra attraverso Virgilio qui se ne occupa Sonia Gentili a proposito di Omero ma è chiaro che anche la conoscenza di Omero è tutta mediata non poteva che essere mediata però sono le mediazioni che ci sfuggono e continuano a sfuggirci perché dell'Iliade qualcosa circolava nelle compilazioni di storia troiana di vario di vario livello alcune letterarie altre invece proprio di carattere così enciclopedico ma spesso anche di livello popolare o popolareggiante circolava nel Medioevo anche la cosiddetta Ilias Latina cioè una riduzione in esame trilatini della materia dell'Iliade ma insomma non sembra proprio che Dante abbia conosciuto questo poemetto medio latino non sembra chi se ne è occupato insomma è arrivato a dire che non ci sono non ci sono ecchi non ci sono risultanze di nessun genere che Dante l'abbia letto quindi Dante aveva un'idea molto vaga della poesia greca filtrata sicuramente attraverso gli autori latini che appunto leggeva e per cui ecco questa è una domanda a cui non è facilissimo rispondere salvo che uno risponda in maniera un po' tranchante non conosceva quasi nulla ecco la verità è questa insomma anche l'Ulisse dantesco lo sappiamo bene non è l'Ulisse omerico ecco è tutta un'altra cosa però insomma qui ci sono forse altri che possono rispondere meglio di me non so se qualcuno vuole intervenire a proposito di questa questione o a proposito di altre curiosità che magari ha riservato fino a questo momento traffico romano prego scusa non abbiamo sentito Andrea si è perso nel traffico romano sì che è notoriamente molto insidioso potrebbe insomma fagocitare anche per molte molte ore confermano gli amici romani presenti ma non abbiamo notizie vero no non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa altrimenti avrei due parole da dire a margine dello scambio che c'è stato prima tra Corrado Calenda e Stefano Carrai è anche a margine di quello che è stato detto dai nostri discussant Luca si prego sei Leila? riconosco la voce buona allora Leila non vuoi proprio farmela fare questa domanda va bene vai avanti no scusami è che parlando delle fonti greche o della mancata conoscenza volevo soltanto aggiungere due parole è molto interessante che quando benvenuto che invece qualcosa dell'Iliata e dell'Odissea grazie alla traduzione di Leonzio conosceva quando commenta Ulisse dice ah vabbè ma c'è sparlano di Dante dicendo che non conosceva Omero ma è ovvio che lo conosceva Omero quando ovviamente tutti noi sappiamo che non c'era una conoscenza diretta però anche per riprendere il discorso che faceva il professor Carrai prima ecco benvenuto tendeva a rendere più umanistico Dante di quanto non fosse di quanto noi filologicamente non possiamo ammettere e poi volevo aggiungere che le storie dell'Iliata come erano state rifatte sia in epoca tardoantica che in epoca medievale qualche volta un po' compaiono in Dante per esempio nel fatto che Achille fosse condannato fra i lussuriosi e tutta la storia di Polissena che non faceva parte dell'Iliade ma degli sviluppi posteriori della materia troiana però poi anche Dante la lascia perdere per strada quella storia invece nel Basso Inferno parla piuttosto di Deidamia e quindi si rifà Stazio più che alle notizie indirette di letteratura greca e come ultima cosa volevo dire che oltre ad Ovidio giustamente ricordato dal professor Carrai anche un po' Servio aiutava a ricostruire quel poco che Dante sapeva di Urisse mi taccio e ti lascio la parola grazie grazie non so se Stefano vuole aggiungere qualcosa no no niente ha ragione Leila giusto insomma Servio Servio tra l'altro insomma è stato troppo troppo trascurato negli studi danteschi basta basti pensare che non c'è una voce Servio nell'encicopedia dantesca quindi ma Servio sì è chiaro che era il corredo di lettura naturale dell'opera di Virgilio forse forse si potrebbe rimandare a a a che ha scritto Dante Dante Omero 2007 se non sbaglio forse troppo ottimisticamente però è una forse un riferimento bibliografico che potrebbe essere interessante grazie sì poi come per magia si torna ai commenti appunto si cita Servio e questa riflessione sull'umanesimo o sul presunto umanesimo di Dante mi ha indotto a recuperare alcune osservazioni che erano state fatte prima da da Zieg Baranski sull'importanza del contesto della formazione intellettuale di Dante ai fini di una comprensione come dire più organica del paradigma intellettuale della poesia dantesca e a tal proposito sempre recuperando la bibliografia dantesca di Carrai e il collegamento tra quest'ultima e il volume di cui stiamo discutendo mi viene in mente il volumetto molto importante del 2006 Dante Legiaco una chiave di lettura per la vita nuova che è stato ricordato proprio dallo stesso Zieg Baranski prima nel quale a un certo punto mi pare proprio alla fine del secondo capitolo se la memoria non mi inganna ma potrebbe ingannarmi Carrai fa riferimento all'importanza dell'umanesimo fiorentino duecentesco per la costituzione diciamo di questo paradigma di letture filosofiche dantesche e quindi mi pare che la passione di Dante per i classici la sua la sua cultura umanistica o presunta tale come come diceva poc'anzi Leila recuperando la glossa di benvenuto si comprenda meglio se si ragiona nei termini di un riferimento organico al contesto fiorentino tardo duecentesco e forse ancora prima che tardo duecentesco nel quale i classici si leggevano con competenza non soltanto in ambito ecclesiastico religioso ma anche in ambito laico se pensiamo appunto che la scuola di di Santa Maria Maggiore probabilmente aveva dato luogo all'insegnamento di Brunetto e probabilmente a quel quello stesso cotè di recupero della tradizione classica mediata dalla cultura francese afferivano anche i vari boccompagno da signa eccetera bene da Firenze dunque maestri di retorica di generazioni precedenti che già in qualche misura avevano introdotto il recupero dei classici a Firenze facendo di Firenze in questo senso una sorta di culla del protoumanesimo da una prospettiva vulgare indubbiamente nelle figure di Brunetto Latini e Bono Giamboni che si contrapponeva al protoumanesimo padovano invece declinato nel senso del latino ma comunque una specificità culturale nella quale come dire Dante può essere inserito ovvero intendo dire in poche parole forse banalmente che questo classicismo dantesco non veniva troppo da lontano rispetto al mondo nel quale Dante si è formato insomma un tratto della sua fiorentinità se così si può dire e in questo senso appunto queste osservazioni tornano molto bene anche al discorso che faceva Zieg Baranski a proposito dell'importanza di tornare anche a testi meno battuti dalla critica dantesca a testi della prosa ai testi elegiasci e al bel contributo su Massimiano di cui si è detto insomma peraltro questa contaminazione di fonti Massimiano Boezio molto plausibile per un passo come quello relativo al dolore di Francesca era molto spesso attiva già a livello materiale della tradizione manoscritta dove Boezio poteva essere accompagnato a versi intonati nel senso delle legia perché avvertito come ci ha insegnato Carrai nel volume Dante Legiaco come una sorta di caposcuola di quel filone stilistico e dunque mi pare insomma che tutti i vostri interventi fossero molto ben interconnessi e mi limitavo a evidenziarlo benché non ce ne fosse bisogno e forse anche prendere tempo per arrivare a un'ora come dire ragionevole allora Luca se si tratta di prendere tempo mi scopro logorroico e sottolineo anch'io quello che tu hai detto che in effetti insomma tu hai ricordato gentilmente un passo di Dante Legiaco ormai lo conosci meglio di me quel libro ma la verità è che quel tema cioè diciamo di questo proto-umanesimo fiorentino io l'ho appena delibato mentre insomma tu e altri amici presenti perché bisogna ricordare anche il bel convegno proprio fatto fatto nella sede in cui siamo oggi su appunto sulla Firenze ai tempi del giovane Dante e i cui atti sono usciti appunto per la Salerno effettivamente questo è un tema secondo me molto importante su cui forse parebbe la pena di insistere certo Brunetto è appunto il personaggio chiave proprio in 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 questo diciamo rilancio della classicità ai fini però di 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 una partecipazione civile la retorica insomma Cicerone quindi sì credo che sia un aspetto davvero molto interessante della formazione di Dante che poi dopo è andata anche in tante altre direzioni ma probabilmente negli anni giovanili si sviluppa molto sulla linea Brunetto Bono e appunto la scuola di Santa Maria Maggiore che tu ricordavi e in effetti c'è questo convergere di Boezio che insomma ce lo dice lui nel secondo trattato del convivio insomma è uno dei suoi libri uno uno dei due libri con cui si è consolato dopo la morte di Beatrice ma Boezio in effetti è in sintonia proprio con le legie di Massimiano che peraltro nel Medioevo erano attribuite a Gallo ma anche per dire con con Arrico da Settimello c'è questo corpus del dolore diciamo dell'elegia che probabilmente risuona insomma nella voce di Dante quindi credo che tu abbia detto delle cose molto importanti e meritevoli di essere poi approfondite ti ringrazio grazie molto e tra l'altro il ricordo di Arrico da Settimello introduce proprio anche il tema dei classici o di quei testi che venivano avvertiti come classici impiegati proprio ai fini dell'insegnamento nella scuola ai fini dell'insegnamento della grammatica quindi come dire ritorniamo in un ambito prettamente educativo anche se a livelli evidentemente superiori di educazione però è molto interessante questa ulteriore suggestione della quale ti ringrazio non so se ci sono altre domande da casa o dalla sala se così non fosse visto che abbiamo raggiunto quasi il novantesimo minuto dall'inizio della nostra chiacchierata di questo nostro bell'incontro cioè un incontro che mi sento di definire bello ed emozionante ricco e suggestivo è stata una bella cavalcata attraverso i saggi che compongono il volume Dante e la tradizione classica è stata l'occasione per ritrovarci nel ricordo ma anche cosa che mi è piaciuto molto che venisse sottolineata da Zig da Elisabetta da Stefano nel nel senso della prospettiva degli studi che verranno degli studi che faremo e ciò che fa insomma anche di chi ci è caro e ci ha lasciato ma non ci ha lasciato una memoria in qualche misura una memoria del futuro e non soltanto una memoria cristallizzatasi nel passato quindi non mi resta che con molto piacere e con sincera gratitudine congedarmi e ringraziare Elisabetta Tonello Zig Baranski e soprattutto Stefano Carrai per essere intervenuti e ringrazio molto Chiara Sbordoni che per tener fede alla promessa di questo incontro è venuta direttamente da Fiumicino dopo un volo intercontinentale ed è rimasta sollerte e sveglia per tutta la durata dell'incontro nonostante il jet lag da Chicago piuttosto significativo e quindi ringrazio lei per essere come sempre un'impeccabile padrona di casa e ringrazio naturalmente l'Università di Notre Dame e il Rome Global Gateway per averci ospitato e ringrazio tutti coloro i quali sono intervenuti hanno partecipato anche da remoto nonché coloro che hanno partecipato in presenza con i quali speriamo di poter fare due chiacchiere davanti a un bicchiere di vino alla fine di questo incontro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti